L'1.02, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Per i tecnici economici dell'Unione Europea ci sono tutti i presupposti per aprire la procedura di infrazione contro l'Italia. Vi state muovendo in una direzione sbagliata, avverte Juncker, presidente uscente della Commissione. Ha dato una grossa mano all'Italia, replica al Premier Conte, ma prima di attribuirci un torto, mi lasci dialogare e aggiornarlo sui conti. Sentiamo. Pensiamo che l'Italia si stia muovendo in una direzione sbagliata e rischia di essere, nei prossimi anni, nella procedura per i disavanzi eccessivi. Le parole del presidente della Commissione Europea tornano a far salire la tensione fra Bruxelles e Roma. Jean-Claude Juncker sottolinea che il comportamento dell'Italia non è ancora una minaccia per la stabilità finanziaria dell'Europa. I problemi italiani, spiega, sono diversi da quelli degli altri paesi, ma simili sotto certi aspetti. Stiamo introducendo queste misure di flessibilità e il riconoscimento delle riforme strutturali, tenendo conto dei problemi, dei cicli economici, dei terremoti e di altri problemi. Ma nessuno in Italia lo sa perché il governo italiano dà l'impressione che la Commissione sia contro il Sud Europa e questo è sbagliato. Dichiarazioni, quelle pronunciate dal presidente della Commissione, alle quali risponde Giuseppe Conte. Con Juncker è un rapporto molto cordiale, spiega il capo del governo, gli riconosco molta lealtà e ha dato una grossa mano all'Italia, ma quando dice che sbagliamo direzione, rispondo che ha sbagliato lui direzione sulla Grecia. Prima di attribuirci un torto mi lasci dialogare e aggiornarlo sui conti. Della procedura di infrazione da parte dell'Unione, ma soprattutto dei conti, ha parlato il ministro dell'Economia, che ha confermato l'impegno a rispettare il patto di stabilità e crescita. Ribadiremo le nostre ragioni agli altri paesi europei, ha spiegato Tria, e cercheremo un ragionevole punto di incontro. Il Consiglio dei Ministri oggi ha approvato il decreto sicurezza bis voluto da Salvini in motivo di tensione tra Lega e 5 Stelle. 18 articoli limati e corretti con al centro la lotta all'immigrazione, clandestina e l'inaspiramento delle sanzioni per chi nel corso delle manifestazioni di piazza infrange le regole. Ulteriore stretta sulle organizzazioni non governative, più rigore nella gestione dell'ordine pubblico, assunzione per la notifica di sentenze a carico di condannati ancora liberi, giro di vite sugli ultracalcistici. Sono solo alcuni dei punti che caratterizzano il decreto sicurezza bis, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, e Salvini annuncia solennemente abemus decretum e rivendica i contenuti del provvedimento a partire dalle misure anti-immigrazione. Nel decreto risultano attenuati i poteri del Viminale, che per vietare l'ingresso nei porti italiani dovrà informare Palazzo Chigi e concordare le scelte con i ministri di Trasporti e Difesa. Va bene il decreto, commenta Luigi Di Maio, che aggiunge bisogna fare di più anche sui rimpatri dei migranti. Diventano più stringenti le ipotesi di reato che si possono compiere in occasione di manifestazioni di piazza, che sono ora punibili fino a tre anni di carcere. Non basta più l'ostacolo ai pubblici ufficiali, invece, spiega Salvini, ci deve essere un atteggiamento aggressivo dei manifestanti che crea un concreto pericolo per l'incolumità di persone e cose, con mazze, caschi, bastoni, razzi, fuochi d'artificio. Nuove misure anche per le violenze durante le manifestazioni sportive, con punizioni anche per i club che abbiano rapporti ambiqui con gli ultra e i tifosi violenti. Dall'opposizione Zingaretti PD dice Salvini si vergogni, parla di sicurezza e da 161 giorni le forze di polizia sono senza contratto e non ci sono soldi annunciati e promessi. Mara Carfagna, per Forza Italia, si augura che non ci sia il consueto baratto tra entro il governo, tra decreto sicurezza e salario minimo. Non c'è stata colluttazione, ma restano ancora da chiarire alcuni punti nella ricostruzione della morte dell'uomo colpito a colpi di pistola dal tabaccaio di Pavone Canavese che lo aveva sorpreso all'interno della propria proprietà. I risultati dell'autopsia hanno rivelato che il corpo è partito dall'alto, sfiorando il cuore mentre il ladro fuggiva verso la strada dove è crollato esanime. Ma non è ancora certo se il proiettile sia entrato dalle spalle o dal petto. Per chiarirlo servirà l'esito della perizia balistica. Il depistaggio nelle indagini sulla strage di via D'Amelio. La procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati due ex magistrati del PUL che nel 1992 indagò sull'attentato in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Si tratta di Carmelo Petralia, attuale aggiunto della procura di Catania, e Anna Maria Palma, oggi avvocato generale dello Stato a Palermo. Sono accusati di calunnia aggravata in concorso con tre funzionari di polizia già sotto processo a Caltanissetta. Avrebbero costruito a tavolino falsi pentiti come Vincenzo Scarantino, inducendoli a mentire e ad accusare della strage persone estranee ai fatti. Nel primo processo furono condannati all'ergastolo otto innocenti. E siamo allo sport con il calcio, non riesce agli azzurrini dell'Under 20 la prodo alla finale mondiale in Polonia. Italia sconfitta 1-0 dall'Ucraina, mentre la nazionale di Roberto Mancini batte la Bosnia a Torino e resta punteggio pieno nella corsa agli europei. Dalla grande paura alla gioia più incontenibile, questo è il tragitto della nostra nazionale lungo 95 minuti di sofferenza pura. Merito di una Bosnia letteralmente trasformata dopo l'amaro K.O. di sabato scorso contro la Finlandia, e che ha costretto ben presto gli azzurri a svestire i panni dell'eleganza, indossando tute del metto con cui ripararsi dalle granate avversarie. Le invenzioni di Miralem Pianici e la potenza incontenibile di Edin Dzeko hanno messo subito alle corde una squadra apparsa involuta e sin troppo facile preda. Così lo stupendo gol del vantaggio realizzato dall'oramai ex romanista al 32esimo è stato la logica conseguenza ad una supremazia assoluta, e che ha messo fine alla lunga imbattibilità della porta azzurra, durata 600 minuti, con il primo gol subito in queste qualificazioni europee. Per fortuna che a inizio ripresa Lorenzo Insigne ha tirato fuori un colpo di genio raccogliendo al volo il preciso cross di Bernardeschi da calcio d'angolo. Imperturbabile la Bosnia, brava a riprendere immediatamente il comando delle operazioni, sferando ripetutamente quel raddoppio che avrebbe meritato. Superlativo anche Sirigu nell'opporsi al fuoco nemico e con Roberto Mancini costretto a correre ai ripari con gli innesti prima di Chiesa poi di Belotti. Azzurri bravi nel saper attendere l'inevitabile calo avversario per poi colpire con l'istinto del killer, con Insigne in veste di suggeritore che all'86esimo ha servito Marco Berratti, astuto nel trovare col suo interno destro, l'angolo impossibile per il portiere Sage. Per il quarto successo consecutivo che permette agli azzurri di comandare a punteggio pieno il girone J, più che un'ipoteca in ottica qualificazione della quale si tornerà a parlare a settembre. Ed era l'ultimo servizio, l'informazione torna come sempre domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.